Dopo tre vittorie consecutive, l'Omnia Bitonto chiude il girone d'andata pareggiando in casa per 1-1 contro la Polisportiva San Marco. Dopo appena tre minuti, gli ospiti passano in vantaggio con Di Iorio, che disegna una traiettoria sulla quale nulla può fare l'estremo difensore bitontino Vitucci. Al sedicesimo, l'arbitro Rizzi di Barletta punisce con il calcio di rigore l'intervento falloso di un difensore della Polisportiva San Marco su Petruzzella. Sul dischetto si presenta Tenzone, che spiazza nettamente il portiere avversario Longo e ripristina la parità. L'ultima occasione del primo tempo è di marca locale e porta la firma di Capitano De Santis, la cui conclusione si infrange sulla parte alta della traversa. Nella ripresa il gioco è decisamente più spezzettato e le occasioni latitano. I padroni di casa sfiorano il raddoppio con il neoentrato Vastano, che chiama Longo alla parata difficile, mentre gli ospiti si rendono pericolosi con Bruno, che manca di poco il bersaglio. Nel prossimo turno l'Omnia Bitonto riceverà lo Sporting Downia, mentre la Polisportiva San Marco sarà di scena ad Altamura sul campo dell'Ultraattivi. Intanto giovedì la formazione di San Marco di Minister Tullo sarà impegnata in una sfida delicatissima contro l'Odace Cerignola nel ritorno del quarto turno eliminatorio della Coppa Puglia. Un pareggio venuto più dal nervosismo nel secondo tempo della squadra creata forse da fattori esterni, anche perché venerdì noi non ci siamo praticamente allenati per cause esterne. Quindi la partita è stata preparata in un certo modo. Nel primo tempo la squadra si è espressa anche bene, meritavamo anche qualche gol in più. Poi il secondo tempo è stata più una perdita di tempo degli avversari, che volevano a tutti i costi questo punto e l'hanno tenuto. Oggi era una partita importante perché giocavamo contro una squadra che praticamente lotta con noi per i playoff. Noi effettivamente venivamo dalla partita strana, persa in casa in modo strano ed era importante oggi comunque fare punti giusto per non perdere spazio con la squadra che ci stava precedendo in questo caso, l'Omni Abitonto.